Geremica dice parole di buonsenso che condivido, aggiungo due cose. La prima è che il porto d'armi se ce l'hai ce l'hai, se poi hai sbagliato a usare l'arma come lo vedremo nel corso dell'inchiesta del processo. La seconda cosa che ci tengo a dire è che quel signore che mi dispiace sia stato ucciso non so se apposto o per caso, quel signore era stato, era un pluripregiudicato che aveva più di un decreto di espulsione. Se fosse stato espulso sarebbe vivo e noi non parleremo di questo.